Facciamo un po' di chiarezza sul discorso delle banche perché quello che molti non dicono in tanti video che ho visto sull'argomento è che di fatto non esiste la possibilità che se tutti insieme i risparmiatori decidono di andare a riprendere i soldi alle banche le banche possano servirli e essere solventi, saranno perfettamente insolventi ovviamente ma è perché le banche sono state concepite in questa maniera, non possono rimborsare tutti contemporaneamente devono anche prestare soldi alle persone come me che ad esempio hanno un mutuo e un prestito e quindi creare panico sul sistema bancario serve solo a fare impaurire le persone in un sistema che si basa essenzialmente sulla fiducia il problema è che ci sono gli speculatori, insomma io un po' me ne intendevo e loro hanno questo atteggiamento un po' da savana dove vedono nel branco di gnu uno gnu che è un po' debole, un po' zoppo e i predatori lo circondano e quindi vanno a prendere sempre i predi più deboli o quelle che hanno delle criticità e questo può succedere anche se sono grandi gruppi bancari apparentemente solidi che però hanno del marcio dentro e per marcio intendo non grandi cose ma magari hanno dei problemi tipo titoli di stato svalutati al loro interno oppure hanno fatto dei prestiti poco diversificati e il problema è che anche in una banca sana se venisse aggredita dagli speculatori tramite queste assicurazioni che si chiamano credit default swap che sono sostanzialmente dei titoli in teoria assicurativi che servono per assicurarsi dai fallimenti di una qualunque azienda di un governo, di una banca, di una SPA, ci sono di vari tipi ecco se tutti insieme gli speculatori si avventano sul credit default swap su questo titolo di una specifica banca è chiaro che questa banca rischia di andare in difficoltà perché quando si alza il prezzo di questi credit default swap succede che suona un allarme dal punto di vista degli investitori che vedono questo dato come molto preoccupante perché sarebbero persone che investono proprio sul fallimento di questo ente sono scommesse sul fallimento questa è una cosa assurda che possa esistere sui mercati finanziari capisco che possa servire come assicurazione ma quando miliardi di euro possono essere investiti per far fallire un titolo è chiaro che questa cosa diventa un pochettino un conflitto di interesse pericoloso e quindi uno speculatore o un gruppo di speculatori se si butta su un titolo per farlo fallire compra questi credit e li fa salire che comunque sono titoli quotati sui mercati finanziari quindi sono strumenti finanziari negoziabili quindi possono essere venduti e comprati se questi titoli schizzano è chiaro che crolla di parallelo il valore delle azioni in questo caso della banca e un po' come nella grande scommessa è chiaro che se il titolo non fallisce ci rimettono alla lunga però se poi il titolo crolla hanno un enorme guadagno perché questi titoli in genere hanno una leva enorme nel senso che se poi effettivamente fallisce il titolo sottostante a loro è chiaro che c'è un enorme rimborso e questo è davvero secondo me una cosa di pericoloso soprattutto nel momento in cui c'è la speculazione fatta da macchine che quindi ragionano in maniera ancora più darwiniana e vanno ad attaccare visto che c'è ora un problema di banche ci sono alcuni che vanno ad attaccare le banche che sembrano un pochettino più fragili ma il rischio è che così si crei per l'avidità di pochi un problema sistemico enorme cioè non si rendono conto che per fare un po' di soldi con la speculazione più becera non danno nulla all'economia vanno anche a distruggere un tessuto che è quello che poi dà i prestiti alle persone i mutui magari chi lo ha già avuto come me non è che è preoccupato ma chi ha dei risparmi è preoccupato e chi deve avere deve chiedere un presito che tassi di interesse si vedrà proporre visto che le banche ora sono terrorizzate quindi hanno paura a dare soldi pensate a chi sta contrattando oro muto come si sente di fronte a questi attacchi e quindi veramente stiamo parlando di mercati finanziari dove non esiste un'etica dove si mangiano fra loro senza alcuna pietà e questo è qualcosa che ritengo assurdo nel mio sistema economico che sto creando non esistono mercati finanziari sostanzialmente tutti i titoli tutte le azioni sono in mano a chi lavora in un'azienda quindi le azioni della banca sono in mano a chi sta nella banca come dipendente e non esiste il capitale non esistono gli azionisti gli azionisti sono tutti alla stessa quota i dipendenti e allo stesso tempo anche i dirigenti con la stessa quota dei dipendenti questo sistema secondo me è quello più giusto poi magari mancherà del capitale se vorranno fare dei titoli di bond per far investire i cittadini emettendo delle obbligazioni specifiche questo si può fare però andare a lasciare attività in balia dei mercati finanziari specialmente attività bancari è molto pericoloso quindi io ritengo che nel mio sistema economico chi vuole speculare speculi su mercati fuori dal paese in cui c'è il sistema se lo può fare ovviamente con una giusta tassazione ma non avere un mercato finanziario interno avere invece una banca centrale vera, forte in mano ai cittadini quindi non come un ente terzo che vive sulla nuvoletta e che si dichiara indipendente ma poi evidentemente ha influenze enormi perché determina la politica per esempio ora se voi foste il banchiere centrale europeo cosa fareste di fronte a questi eventi che stiamo vedendo continuereste a aumentare i tassi con il rischio di un disastro sistemico oppure stamperete denaro per salvare le banche per garantire magari i depositi all'infinito ma con il rischio di generare un'inflazione che poi non sarà più controllabile allora i problemi vengono da lontano i problemi vengono da quando c'è stato un insensato quantitativising quindi stampare moneta con il discorso che l'inflazione era ferma e quindi si poteva stampare moneta all'infinito finché non si sarebbe generata l'inflazione senza considerare che poi a un certo punto gli effetti di questo quantità di easing e questa enorme quantità di liquidità sarebbe poi esplosa sul mercato generando magari non subito ma poi dopo un'enorme inflazione e quindi il mio sistema banca centrale in mano ai cittadini decisioni sui tassi di interesse in mano ai cittadini e secondo me questa situazione qui anche dividendi eventuali della banca centrale in mano ai cittadini quindi non enti che non possiamo controllare che potrebbero fare delle scelte distruttive è chiaro che i cittadini sarebbero i primi protettori dei loro risparmi e quindi secondo me è la soluzione ideale ovviamente io sto studiando questo sistema economico che tra poco pubblicherò dove parlo di tante cose è davvero qualcosa di complesso e probabilmente rivoluzionario rispetto ai sistemi finanziari che vediamo oggi e stride con tutti questi titoli speculativi che non fanno altro che essere dei grandi pericoli delle spade di Damocle sul sistema che sembrano quasi messe apposta per avere un bottone di reset per lasciare senza liquidità le persone più umili che hanno fatto dei risparmi mentre i grandi spiegatori sguazzano dobbiamo cambiare questo sistema e per cambiare questo sistema l'unico modo secondo me si chiama democrazia diretta ma non quella democrazia diretta ridicola che abbiamo visto in alcune esperienze democrazia diretta di gente che è chiaro che quando deve andare a votare deve studiare su quello che sta votando ogni cittadino si deve sentire coinvolto e non si può più delegare agli altri di prendere decisioni anche perché se si fa così poi perché vi lamentate se le cose vanno malissimo quando sarete voi stessi speriamo in futuro in democrazia diretta allora sarete voi a determinare tutto sarete quindi molto più responsabilizzati e non potrete dare la colpa a nessuno e quindi viva la democrazia diretta e abbasso i credit default swaps a qui grazie a tutti